In provincia di Taranto su 26 sindaci solo 3 sono le donne, 55 i primari, mentre solo 12 le primarie. Lavorano poco più di 52.000 donne rispetto agli oltre 104.000 uomini, 15.000 le disoccupate, mentre 12.000 sono gli uomini. E poi lo stalking e i maltrattamenti. Nel primo caso tra il 2020 e il 2021, 881 le denunce, nel secondo 1093. 446 le donne che solo nell'ultimo anno è stata censita solo un'arma. Si sono rivolte alle forze dell'ordine per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Bisognerà vedere però quanti di questi SOS si siano trasformati in processi e condanne. I dati sono stati raccolti dalla CGL di Taranto che per la giornata della donna ha deciso non soltanto di sensibilizzare su questi temi ma fotografare il gender gap. E' l'avvio di un percorso che vada nella direzione della riduzione di quelli che sono i divari di genere. C'è un dato che ci ha colpito molto, che è quello dei nuclei familiari monogenitoriali. Stiamo parlando di qualcosa come circa 14.000 nuclei di cui 11.000 sono femminili e immaginiamo che dentro quei nuclei ci possano essere delle privazioni legate proprio alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro.